Ragazzi, un giallo! Era tanto che non vi presentavo un libro, un romanzo giallo, ed eccolo qua, uno dei classici del romanzo giallo. Il segno dei quattro, di Arthur Conan Doyle, le avventure e naturalmente le indagini di Sherlock Holmes, della fabbrica editrice. Io ho questa edizione, ma ce ne sono tante altre, essendo un classico. Allora, che dirvi di questo romanzo? È una delle indagini più famose di questo commissario detective, così estroso e particolare, che ci porta a Londra naturalmente. E lì succede che una signorina, la signorina Mostand, si presenta presso l'abiliazione di Sherlock Holmes e Watson, che condividono la casa, perché deve sottoporre il suo problema. Il suo problema è che, quando è morto il padre, è ritornato dall'India, il padre è sparito, ma il padre aveva trovato un tesoro insieme con un suo amico. E proprio quando è tornato a Londra, guardate caso, è sparito il padre della signorina Mostand. E quindi, siccome ogni anno lei, da tanti anni, riceve una perla preziosissima, che poi vende naturalmente, le serve per fare una vita dignitosa, e finalmente, a distanza di anni, ha ricevuto una lettera in cui questo benefattore vuole parlarle. E lei non si può presentare da sola, essendo una signorina giovane e graziosa, e quindi si fa accompagnare da Sherlock Holmes e Watson. Proprio durante le indagini, si scopre che il benefattore è il figlio, uno dei figli gemelli, uno dei due gemelli, dei figli dell'amico del padre. E che il padre non aveva ucciso, perché quello sarebbe stato il primo pensiero, per tenersi tutto il tesoro, ha ucciso il suo compagno. No, era morto per un malore durante un loro litigio. In realtà, i tuoi figli hanno ritrovato, poi alla morte del padre, hanno ritrovato il tesoro e hanno deciso, il padre aveva chiesto, di lasciare una parte alla signorina Mostand. Ma il fratello Bartolomeo, molto più egoista di Sciolto, decide di tenersi per sé e mandare solo questa perla ogni anno. Però adesso è il momento in cui vogliono chiarire tutto, Sciolto vuole chiarire tutto. E quindi spiega la situazione alla signorina Mostand e al detective Sherlock Holmes. E a Watson, che ascolta e naturalmente elementare Watson, tutto quello che è facilissimo per Sherlock Holmes, per Watson non lo è. Pur essendo lui un medico, quindi una persona di cultura, Sherlock Holmes riesce a trovare degli agganci, degli indizi dovunque, quando invece una persona normale non ce la fa. E poi, avendo anche una cultura, naturalmente in questo senso, è logico che è avvantaggiato. E quindi, alla fine si arriva al punto che vanno a trovare il fratello Bartolomeo nella sua casa e lo trovano morto. A che l'arriva Scotland Yard, fa le prime indagini del caso e mettono in carcere proprio il fratello, il domestico di casa. Ma in realtà, Sherlock Holmes ha già capito che non c'entra niente il fratello. Hanno trovato il corpo del fratello di Sholton dentro alla sua stanza, ha chiuso chiave da dentro. Quindi qualcuno deve essere penetrato all'interno e si è portato via il tesoro. Quindi, adesso, io sono arrivata a questo punto qua, il povero fratello sta in carcere. E Watson e Sherlock Holmes vanno a cercare il tesoro e, naturalmente, l'assassino, gli assassini veri del gemello morto. E quindi, eccoci che apprendono un cane, il cane segue una sostanza, il crea... Adesso non vi dico che sostanza è perché non me la ricordo. E questa sostanza, naturalmente, segue il creasoto. Il cane insegue questa... fiuta queste tracce e li porta sulle tracce, appunto, degli assassini. E quindi, sicuramente, io so che le indagini di Sherlock Holmes vanno sempre a buon fine. E poi, tra l'altro, tra la signorina Mostan e Watson, nasce un sentimento che, alla fine del libro, Io so, perché sono andata a curiosare, so che prenderà forma, però, naturalmente, lo leggo tutto. E quindi, e poi all'inizio del libro vi dico che il Sherlock Holmes, essendo in una fase in cui non aveva tanto lavoro, si, diciamo così, intratteneva in un passatempo che non consiglio a nessuno, perché, naturalmente, è discutibilissimo. Quindi, mi raccomando, ragazzi, leggete il romanzo. È un classico della letteratura gialla, per cui è interessante, è intrigante stare dietro alle tracce, noi dietro a Sherlock Holmes, come Watson, per cercare di arrivare anche noi alla soluzione del caso. Quindi, buona lettura, a presto! Sherlock Holmes, Il segno dei quattro.